Quando parliamo di retroporti di ultima generazione non parliamo di distese di cemento con sopra dei contenitori. Parliamo di centri direzionali, parliamo di centri finanziari, parliamo di centri di distribuzione, parliamo di tecnologia avanzata. Quindi vuol dire industria, vuol dire posti di lavoro ed occupazione. Noi vogliamo un retroporto, noi proponiamo un retroporto di primo miglio perché riteniamo che sia funzionale, determinante nella sfida che i porti giocheranno nei prossimi vent'anni. Oggi le navi sono sempre più grandi, i contenitori che vengono scaricati sono sempre più numerosi, ma in ogni porto al mondo avanzato o a quelli simili a Genova si stanno creando delle reti infrastrutturali, retroportuali che non sono chiamate ad accatastare contenitori, ma a creare ricchezza intorno alla merce che c'è dentro il contenitore. Quindi questo vuol dire assemblare, vuol dire rielaborare, vuol dire personalizzare, vuol dire distribuire, vuol dire assemblare, vuol dire utilizzare automazione, vuol dire utilizzare digitalizzazione, alta tecnologia. Quindi noi non vogliamo abbruttire il territorio, ma vogliamo arricchirlo con forme di tecnologia avanzata, di aggiornamento territoriale, che è quello che vediamo in tutto il mondo, dove, lei citava prima alcuni esempi europei, ma ci sono esempi straordinari, Barcellona ha recuperato il proprio retroporto, ha creato un retroporto di primo miglio che ha consentito a questo scalo di crescere in maniera impressionante negli ultimi anni, di diventare uno dei principali scali del Mediterraneo. Attraverso la ricchezza generata dal porto, Barcellona ha recuperato il proprio centro storico, lo ha riconvertito completamente, lo ha fatto diventare un centro residenziale pieno di giovani, pieno di attività commerciali. Oggi chi va a Barcellona trova una città affascinante. Lo stesso sta succedendo a Madrid, dove c'è in atto una riconversione di tutta quella che è l'area nord della città, che era un'area dismessa e abbandonata, dove invece si sta ricreando un centro finanziario ad alta tecnologia, con magazzini, con centri residenziali, con centri finanziari. Questo stesso processo è venuto qualche anno fa già ad Hamburgo, si sta registrando in tante città europee, in alcuni stati come la Polonia, andate a visitare la Polonia, troverete un paese affascinante che ha saputo sfruttare a pieno le possibilità legate anche ai finanziamenti internazionali. Tutto questo non deve mancare all'Italia, cioè l'Italia deve, l'Italia in generale, ma Genova in particolare, deve sfruttare le proprie potenzialità e soprattutto gli interessi che i grandi investitori hanno rispetto al nostro scalo, che è considerato strategico nella scacchiera internazionale dell'armamento.